ciao nome deo lo so che siete pronti e pronte per le stagioni più calde ed è per questo che è giusto essere preparati a lunghi viaggi in auto per raggiungere le tanto agognate località di villeggiatura nei periodi festivi a rendere più sopportabili i nostri spostamenti sono ovviamente le autoradio periferiche utilissime che oggi però devono rispettare alcuni canoni precisi quindi adesso vediamo insieme questa la kmm 105 ry un autoradio digitale kenwood ovvero senza lettore cd che dà la possibilità di ascoltare la musica e accompagnarvi durante il viaggio anche su quei veicoli un po più vecchiotti si tratta di un autoradio del tipo di installazione da undine dimensione di 182 x 53 x 100 mm sulla parte anteriore è presente un ingresso usb con sportellino antipolvere è un ingresso aux in per collegare uno smartphone questa è una caratteristica fondamentale per permettervi di ascoltare i vostri servizi streaming in abbonamento come spotify itunes o perché no anche gli audiolibri di audible inoltre è compatibile con i dispositivi ios e android basta collegare il telefono alla porta usb tramite il cavo di sintonizzazione per ascoltare le playlist precaricate nei formati mp3 windows media audio uav e addirittura flac esatto anche il formato flac è supportato è uno dei preferiti dagli audiofili di tutta italia il display è retroilluminato da una luce bianca che rende tutto molto leggibile mentre i tasti sono illuminati da una luce rossa tenue che vi permette di identificare i vari tasti vari pulsanti senza infastidire il guidatore lo schermo nlcd da 13 caratteri ha eccellenti angoli di visione l'orologio digitale viene visualizzato sul display ed è possibile scegliere tra le stazioni radio fm e am entrando più nello specifico questa autoradia ha una potenza massima di 4 per 50 watt e una gamma di frequenza che va dai 30 ai 15 mila hertz la vera chicca di questa autoradio sta nella sua funzione di equalizzazione infatti abbiamo tre preset tra cui possiamo scegliere che equalizzeranno automaticamente la musica che stiamo ascoltando il prezzo è decisamente accattivante vi permetterà di fare un piccolo upgrade alla vostra auto proprio in vista della stagione primaverile potete trovare l'autoradio kenwood kmm 105 ry su bpmpower.com cliccando sul link riportato qui in basso in descrizione vi invito a supportare il nostro lavoro mettendo un mi piace iscrivendovi al nostro canale youtube se possedete già questa autoradio ditemi che cosa ne pensate nei commenti ciao al prossimo video ciao